Amici di Basket Italy, bentornati in questo nuovo appuntamento europeo, come al solito nel bel mezzo della settimana parliamo di Euroliga e questa sera lo facciamo con Dario Destri. Ciao Dario. Ciao a tutti, ben ritrovati. Sono successe tante cose dalla scorsa settimana, tante partite, tanti buoni spunti per le squadre italiane, per la squadra italiana, meno bei spunti per l'altra squadra italiana, per la Virtus Bologna, ma ne parliamo tra un po'. Allora, prima di cominciare vi ricordo, come al solito, di supportarci, se vi va, iscrivendovi al nostro canale YouTube, lasciandoci un commento, facendoci sapere che cosa ne pensate dei nostri contenuti e se non vi va di guardarci, potete anche ascoltarci sui nostri canali podcast. Allora, io inizierei facendo un po' il riassunto di quello che è successo nella scorsa giornata, ovvero la quarta giornata di Euroliga, partendo dai risultati delle due italiane. Abbiamo una gran bella vittoria dell'Olimpia per 83-81 sul campo del Bayern Monaco, mentre invece l'altra italiana, oserei dire un tonfo, in casa del Partizan di Belgrado, 90-62, e poi abbiamo avuto la vittoria dell'Efes, 78-74 contro il Barberlino, gran bella vittoria del Monaco sul campo del Pana, vittoriona dell'Olimpia Coss in casa del Bascone, poi magari dell'Olimpia Coss, ne parliamo più approfonditamente dopo, e ancora un KO del Barça in casa dell'Oreal Ghiris. Allora, io partirei ovviamente con l'Olimpia, che ha vinto e l'ha fatto bene contro il Bayern Monaco, una vittoria sudata, ancora una volta in primonta, arrivato praticamente allo scadere con la triva di Baron, che fino a quel momento lì l'havia sbagliato in tutte e tre i tentativi dalla lunga distanza, ed è la terza vittoria in trasferta per l'Olimpia in un'altra gara tirata, ancora una volta a partenza così così, poi la squadra è uscita fuori, e come ha commentato anche Messina, la squadra si è dovuta un po' reinventare dopo l'infortunio di Shields, poi magari delle conseguenze dell'infortunio di Shields ne parliamo tra un attimo. L'Oreal, che Olimpia è stata questa Corsara a casa di Trinchieri? Allora, intanto anche doppia Corsara, perché alla fine c'è stato il doppio turno, doppio partita in trasferta a settimana lunga, il doppio turno è sempre un mix di situazioni e ci sono dei risultati anomali, come per esempio quello che hai citato dello Zalgiris del Barcellona, che fanno capire che non parliamo mai di una partita semplice durante un doppio turno. Intanto sul campo del Bayern Monaco si gioca sempre male, perché Trinchieri è un maestro nel far giocare male le avversarie, si vede sempre, la squadra non era per niente al 100%, né quella di Milano né quella di Monaco. Ancora una volta è parecchia un trend ormai pazzesco inizio stagione, avevo visto una statistica che i primi quarti dell'Olimpia di questa stagione sono semplicemente sempre agghiaccianti, infatti più che nel primo quarto nel primo tempo in questo caso il Bayern era addirittura volato a più 14, che insomma decisamente con tutte le attenuanti del caso, l'infortunio di Schiltz che poi si è rivelato più grave del previsto, l'assenza di Mitrolong, da Tome che non era ancora disponibile, è rientrato questo weekend a Venezia, ma le condizioni sono quelle che sono. È chiaro che c'è un problema di partenza, che una volta può essere un caso, due magari, però siamo a quattro partite, più o meno la costante è sempre stata questa. Anche in campionato? Anche in campionato, l'unica eccezione è stata l'ultima partita contro Venezia e che ha perso, quindi viene da capire dov'è il trend, ma anche lì la partita di campionato dopo un doppio turno è sempre una roba particolare. Io ho proprio avuto la sensazione che lì sia finita la benzina. Sì, 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 ma la situazione è assolutamente questa, soprattutto in questo inizio di stagione. Però Milano porta sempre un certo carattere, perché riuscire a rimontare tutte le volte non è una cosa comune. Rimontare un meno 14 in trasferta, per quanto il Bayern Monaco non sia una delle prime della pista, senza offesa per il Bayern Monaco, non è roba da poco, soprattutto in un finale che poi negli ultimi otto minuti più o meno è sempre stato punto a punto, sorpassi contro sorpassi, vai sotto di due punti a una ventina di secondi alla fine, riesci a trovare una tripla di Billy Baron costruita bene, perché Pangos lo ha innescato bene la difesa del Bayern Monaco, si è un po' addormentata sui blocchi, però poi quel tiro devi comunque metterlo. E come dicevi tu, dopo una partita dove non hai segnato dall'arco, i grandi tiratori la mettono, sicuramente Billy Baron è uno di quella categoria. Di sicuro, se vogliamo guardare il lato positivo di questo inizio del rimpio a Milano, è il saper vincere in queste situazioni e in trasferta, perché alla fine ha giocato solo una partita in casa, tra l'altro perdendola contro Berlino. È chiaro che poi andrà aggiustata qualcosa, adesso arriverà un'altra trasferta, perché si va sul campo del Barcellona e non sarà per niente facile, però è chiaro che c'è qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona, sicuramente vanno aggiustate. La sensazione è che le potenzialità siano molto alte, perché se vinci in queste situazioni significa che hai un margine di miglioramento estremamente alto. Ecco, metterlo in atto però non sarà una roba semplicissima, perché come dicevamo, te spendendo tante energie, sono energie che magari ti servono in un altro momento, però sia un po' obbligati, per varie ragioni in questo momento, a spremersi. Bisognerà capire quando rientrerà, ad esempio, Mitrulong, secondo me sarà il rientro chiave, perché darà fiato da Pangos. Non so se sarà già disponibile per Barcellona, non penso, però secondo me per la partita con la Real Madrid in casa della settimana dopo, che è già quasi tutta esaurita, tra l'altro. Credo che ci sarà, però aspettiamo comunicati ufficiali a riguardo. Senti, a proposito di comunicati, c'è stato anche quello di Shields, che ha ufficializzato l'infortunio che sembrava non leggero, ma sicuramente non ci si aspettava una lesione di quel tipo, visione di tendini al piede sinistro, il giocatore resterà fuori tra le sei e le otto settimane, anzi il comunicato recita sarà rivalutato fra sei e otto settimane. Quindi, secondo te questa assenza come andrà a pesare proprio sulle comune di Milano? Perché adesso, come avevo detto Messina, Melli si è un po' presa la squadra sulle spalle, è stato un po' il corsaro della partita col Bayern. Ora la squadra magari si affiderà a un corsaro diverso ogni partita o ti aspetti che ci sia un leader, un nuovo leader? È la perdita di quelle pesanti, perché si perde quella che è la superstar della squadra, senza troppi mezzi termini. Un giocatore per qualità tecniche assolutamente insostituibile. Puoi anche andare sul mercato, ma un altro Shields, come dice Messina, non c'è. Quindi devi un po' capire, ridisegnare la squadra. Tanto si parla di sei e otto settimane, come dicevi tu, rivalutazione, penso che sarà un po' più lunga. Il tendine di Shields ha un po' di trascorsi, perché già la scorsa e finali Scudetto aveva un'infiammazione. In precampionato si è fatto male al piede, non è mai stato chiarito la dinamica, però poi si rifà male al piede, probabilmente c'è qualcosa da curare, da sistemare, che richiederà tempo. C'è da dire che l'Olimpia è estremamente profonda. È partita con 16 giocatori proprio per queste situazioni. È chiaro che si sono accumulate diverse situazioni e perdere Shields, con tutto il rispetto, non è come perdere Baldasso o Alviti, senza nulla togliere ai due italiani. Però perdi quella che di fatto è la tua prima punta, il giocatore più adatto ad attaccare a giochi rotti. Milano ha le carte per ridisegnare un po' la squadra, nel ruolo devono salire di tono Deshaun Thomas, per esempio, che finora abbastanza deluso. Deve ritrovare condizioni di Gigi da Tome, su questo non c'è niente da fare. Penso che anche in questo caso, nonostante un ruolo diverso, sarà chiave il rientro di Mitrulong, perché ti porta a una fisicità diversa. È un giocatore che, l'abbiamo visto l'anno scorso a Brescia, sa giocare a giochi rotti, magari chiede tanta palla in mano, però ha quell'individualità per giocare dal palleggio, che forse negli altri giocatori manca un po'. E soprattutto ti permette di sgravare Devon Hall dei compiti di regia e magari giocarti Devon Hall nel ruolo di tre, che per quanto non sia proprio enorme fisicamente, ha una forza fisica nel corpo, soprattutto nella parte superiore, impressionante e non è un caso che spesso finisce a marcare il miglior giocatore avversario. Saranno settimane complesse, però è un flashback della scorsa stagione, quando Schiltz si ruppe il braccio nella partita con il Real Madrid, sembrava la fine per l'Olimpia, invece talto subito dopo quella partita andò a vincere a Barcellona, vinse diverse trasferte, agguantò i play-off di Eurolega. Non so, vogliamo farla un po' cinica meglio adesso che a marzo, però è un infortunio, se quello scorso, dell'anno scorso, era proprio il classico osso rotto, il tendino è una roba un po' più delicata, credo che verrà gestita con estrema cura. Per ora, secondo me, non si muovono sul mercato, se fra un mese ci saranno con i rienti ancora difficoltà, forse qualcosa verrà monitorato, non c'è tanto sulla piazza in questo momento in realtà. Andiamo dall'altra italiana, che invece, come abbiamo detto, ha fatto una bella sconfitta in casa del partita, di fatto non c'è stata storia, da già primo quarto via, 27-11, poi sempre sotto, vero che Nanna lì ha martellato, però la squadra è stata in difficoltà. I big ancora una volta male, Bellinelli solo tre punti, di cui una tripla, Teodosic 0, 0 su 3 da tre punti, Hackett appena cinque punti. Insomma, è una squadra, sì, abbiamo detto tante volte, alla prima in Eurolega, però sta mancando qualcosa, c'è nel senso, puoi perdere sicuramente lì a Belgrado, non è il campo più freddo del mondo, però hai perso male, sei uscito male, non lo so, l'attrocca è un po' rivedibile. Sì, ci sono un po' di problemi che si stanno emergendo per il livello della competizione. Partizan, intanto, è una squadra abbastanza folle, nel senso che, come la vedo io, può vincere e perdere contro chiunque, perché talento ne ha profusione, però è anche abbastanza disfunzionale, cioè dei giocatori un po' diciamo fuori dalle righe, nanna lì tra l'altro è uno di questi, perché è capace di farti una serata da zero, sbagliando tutto, o farti 20 punti, come è successo contro la Virtus. La Virtus, secondo me, principalmente è un problema offensivo. Guardando le statistiche, purtroppo è il peggior attacco dell'Eurolega, e è una cosa che in Eurolega, dove la difesa è sicuramente importante, però non riuscire a trovare una pericolosità offensiva costante, è un problema, e in questo sicuramente incide tantissimo l'assenza di Schenghelia, che però rientra questa settimana nella partita di Madrid. Hai dei problemi di assenze, come quella di Abbas, che purtroppo dovrebbe andare ancora piuttosto per le lunghe, però c'è sicuramente qualcosa di strutturale, perché i veterani faticano ad entrare in condizione, ma è normale, sono dei veterani che devono ritrovare il ritmo partita, penso soprattutto a Teodosic, che ha mancato tanta di preparazione e non affronta l'Eurolega da parecchio tempo, soprattutto questo tipo di Eurolega, più che quella pre-revoluzione. Quindi c'è un po' poca pericolosità dal palleggio senza di lui in campo, senza un creatore fanno fatica, e Menion e Paiola non sono ancora a questo livello, sia per una questione offensiva non riescono a colpire abbastanza dalla distanza, che è proprio una questione di visita di gioco, Teodosic è l'unico. Quello che sta un po' più a quel livello è Hackett, che anche lui ha bisogno di trovare una certa condizione fisica. Non dimentichiamoci comunque che Hackett è un 87, che è una bellissima annata, la mia tra l'altro, ma a 35 anni cominci a far fatica, soprattutto se sei un giocatore che sul fisico ha basato tanto della sua carriera. A un certo punto farà un po' più fatica. Le note positive sono sicuramente Lundberg, anche se note positive in generale, perché a Belgrado ce ne sono state decisamente poco, che mi sembra un giocatore, lo sapevamo già da quando era al Cesca, molto pronto per questo livello. Spero che il rientro di Schenghelia riesca a tutelare un po' Jaite, che in difesa mi sembra essere particolarmente dentro di piedi e deve ancora prendere un po' la misura con la competizione. Teodosic è stato MVP di Euro Cup l'anno scorso. Questo è il suo primo impatto contro la fisicità di Eurolega e sicuramente in difficoltà. Forse Schenghelia che gli ruba un po', ruba tra virgolette, un po' di minuti per permettergli di giocare magari con più decisioni, eschiando anche qualche fallo in più in meno spazio, potrebbe aiutarlo a crescere. Work in progress enorme. Sicuramente non sarà facile per Scariolo gestire il resto della stagione, anche perché adesso arriva la partita di Madrid, che non sarà certo una passeggiata di salute. Non mi ricordo il resto del calendario, ma se non mi sbaglio subito dopo c'è la sfida con l'Olimpia. Non mi ricordo se subito dopo o il turno dopo ancora. Arriva fra poco anche il derby, il primo derby italiano di Eurolega che mancava da tantissimo tempo e insomma, nonostante le polemiche dello spostamento farà piacere rivederlo. Ecco. Allora, io approfitterei per fare anche un po' insomma il quadro di questa... No, allora, te lo sono andato a vedere, dopo il Real c'è il Villarben e poi c'è Milano. Ah, ecco, mi avevo dimenticato. Sì, c'è il Villarben di mezzo. Allora, perché è un'Eurolega un po' strano, nel senso, come dicevamo, è sempre un campionato che va giocato, nessuna partita è scontata, però dopo quattro giornate da classifica non è proprio quella che ci aspettavamo. Su tutte, imbattute, il Fenerbahce e l'Olimpia Costa, tutte e due, 4-0. Bellissimo Berlino 3-1, Bascogna 3-1, così come Milano, come il Maccabre con il Monaco e quelle che fanno specie sono soprattutto l'Efes all'ottavo posto al momento 2-2, ma soprattutto Real Madrid e Barcellona entrambe 2-2. Allora, mentre il Fenerbahce secondo me ha avuto un calendario facile con tre partite casalinghe giocando con il Maccabre, Villarben e il Valencia, con la sola trasferta di Monaco che sappiamo essere fanalino di coda con 0-4, invece l'Olimpia Costa secondo me è la grande sorpresa del campionato perché ha battuto in casa le due spagnole, tutte e due, poi è andato a vincere in casa del Bascogna e poi la vittoria con lo Gialgidis. Una squadra che porta a Vezenkov con 23 punti di media, benissimo anche slowcast 14 punti e 7 assisti di media. Secondo me questa è la vera sorpresa seguita dall'Alba che anche sta giocando benissimo e poi noi ci facciamo il tifo subito dopo le italiane per via di Fontecchio. Procida, procida! l'Apsus Fontecchio adesso si sta divertendo dall'altra parte. Mentre tra quelle negative più che l'Efes si era al Madri del Barcellona. Dimmi un po' anche la tua. Tra le topese negative ci metterei anche Bologna che non mi aspettava un 4-0 però neanche un 3-1 dopo quattro partite. Sì, il discorso Virtus come dicevamo è un po' complesso e sicuramente non sono partiti male come svisceravamo un attimo fa. Sorprende un po' effettivamente Barcellona e Real Madrid. Real Madrid ha perso sostanzialmente i due big match cioè il classico e l'Olimpia Cos mentre ha vinto le partite più facili. In realtà la prima a casa del Pana l'ha anche rischiata quindi non ha iniziato proprio al massimo della forma e quindi sorprende un po' il 2-2 non mi fido non credo mai al 2-2 dell'Efes perché ogni anno inizia così e poi sappiamo come va a finire quindi al solito inizio soft ricordiamo che non c'è Shane Larkin non sta giocando non mi ricordo se rientra fra un mesetto o giù di lì mi ha sorpreso la vittoria dello Zalgiris col Barcellona onestamente io ho visto lo Zalgiris con la Virtus la Virtus ok ha perso per un finale abbastanza scelerato però lo Zalgiris mi è sembrato tutto tranne che una buona squadra però vincere col Barcellona evidentemente qualcosa vuol dire mi stupisce quello che mi ha colpito particolarmente al di là dell'Olimpia Costa che secondo me è proprio una contender assoluta al titolo perché l'anno scorso in finale le Final Four comunque Vezenkov un giocatore che se rimane un altro anno è sorprendente perché è chiaramente di un'altra pasta pensavo subissero di più la perdita di Tyler Dorsey e invece sono riusciti a a compensare abbastanza bene con Kanan che deve ancora entrare in ritmo però Slukas è tornato a fare lo Slukas del Fenerbahce e questo ha un po' fatto la differenza quello che mi ha un po' più sorpreso a parte l'inizio dell'Alba Berlino ne parlavo un paio di settimane fa che è abbastanza spumeggiante complice un po' il calendario intanto comunque hanno vinto a casa di Milano che non è proprio un risultato qualsiasi hanno battuto il Partizan poi non mi ricordo le altre Vanna e poi hanno perso con l'Efes e hanno perso con l'Efes che comunque è un risultato che metti da conto in realtà ha minuto due partite piuttosto solide quelle col Pana quelle con l'Olimpia col Partizan secondo me c'è stato un po' di effetto di butto abbastanza spiazzato è anche una squadra che rispetto alle altre almeno al momento è quella che gioca più di squadra perché sono assolutamente uomini in doppia cifra di media si si giocano da Dio molto bene uniti veloci piuttosto semplice però efficace è chiaro che stanno vivendo anche un momento di particolare entusiasmo ci sta magari arriverà un momento di chiaro ma sicuro perché se Tamir Blatt gioca tutta la stagione così abbiamo un altro candidato per l'MVP però mi sembra davvero abbastanza assurdo però intanto mettono da parte un tesaretto niente male si iscrivono alla corsa playoff quando nessuno magari li considerava stessa cosa tra l'altro per il Baskogna che ha iniziato alla grandissima ha fatto delle pescate sul mercato di quelle che che mi piacciono soprattutto Edwards che si è rivelato un giocatore scusate Howard che si è rivelato un giocatore clamoroso in questo inizio di stagione si è fatto male all'ultima partita gli è caduto fall sul ginocchio fall sul ginocchio tra l'altro spero non si sia fatto troppo male perché è un giocatore veramente di altissimo livello sta giocando molto bene anche Dolton Homs che ha una vecchia conoscenza del nostro campionato queste sono le classiche firme del Baskogna anche Darius Thompson che a Brindisi conoscono bene tanto sta giocando col passaporto italiano questo ricordiamocelo per le prossime convocazioni stanno giocando bene come al solito hanno un fattore campo importante intanto sono lì in alto dove non te lo aspettavi e giocare contro il Baskogna non sarà facile per nessuno credo perché è una squadra comunque di tradizione che sa farti giocare che sa farti giocare male che vive sulle ali dell'entusiasmo in questo momento vanno molto forte come anche il Monaco guardando la classifica o il Maccabi vediamo un po' più sul lungo periodo quando arrivano i primi scontri diciamo nel clou della stagione però sì sono chiaramente Berlino e Baskogna le prime sorprese della stagione c'è poco da fare Monaco già me l'aspettavo un po' di più però tu avevi anche predetto la vittoria è vero è vero è vero c'hanno i nomi c'hanno i nomi grossi e si vede senti invece delle due delle due grandi deluse mi hai già detto l'Efes non credi all'Efes ok invece le altre deluse al momento deluse però due due ci sta ad essere delusi e anche lì vedo tanti cartelli work in progress soprattutto sul Barcellona che che deve un po' ridisegnarsi rispetto alle scorse stagioni intanto è sempre senza Mirotic e questa è una cosa che pesa guardando un po' lo spezzone degli inizi ho visto un po' di indecisioni in quella che dovrebbe essere la nuova star Thomas Saturansky che mi ricorda un po' quando è tornato Melli in Italia l'anno scorso molto titubante davanti perché dopo tanti anni a giocare in un certo modo è difficile riprendere un certo ritmo qua Saturansky ha tutto per dominare perché è un giocatore da MVP e è ancora un po' esitante offensivamente tra l'altro esita offensivamente 9 punti di media però ci piazza 4 rimbalzi e quasi 5 assi questo dà l'idea del potenziale del giocatore la sensazione che debba ancora capire come si gioca con con Iesikevicius che non è proprio facilissimo e secondo me quello più atteso all'upgrade quest'anno non è tanto la squadra ma è proprio Iesikevicius che al terzo anno del Barcellona credo che gli venga chiesto di qualcosa di più delle Final Four ci sta allora restando in tema Spagna sarà terra di conquista speriamo da parte delle due italiane o almeno terra di battaglia europeo di italiane con appunto il Madrid il Real che ospiterà la Virtus mentre l'Olimpia vola a Barcellona nel match che si giocherà il 28 mentre il Bologna giocherà domani per chi ci ascolta il 27 ottobre allora Bologna arriva da 2KO ma ha vinto contro Treviso ed è stata secondo me una vittoria un po' per prendere un po' la fiducia però dopo 2KO vai a giocare a casa del Real che ha bisogno di vincere per non andare in record negativo e insomma non è la cosa più facile del mondo no no partita più difficile possibile forse però allo stesso tempo ti puoi permettere di andare a giocarla con un pochino di spensieratezza esatto e secondo me questo potrebbe aiutare la Virtus che non credo di far tolto a nessuno di dire che non è la favorita della giornata perché comunque Real Madrid è una squadra di altissimo livello leggevo che hanno recuperato anche Adamanga forse è in dubbio Caser però la squadra è talmente profonda che francamente è semplicemente di un altro livello poi l'Eurolega ci insegna che può succedere tutto l'abbiamo visto anche quello dal Gigi settimana scorsa quindi mai dare per scontata una partita perché non ne esistono però servirà la classica partita da leggenda per vincere sul campo di Madrid la sfida è ricca di Glamour perché comunque sono due squadre che hanno fatto la storia di questa competizione magari sveglia qualcosa di particolare non so nella Virtus per trovare una quadra credo che il rientro di Schenghelia comunque darà anche un po' di fiducia al di là di quanto sia pronto il giocatore ti fa sentire un po' più sicuro avere un giocatore con quell'esperienza e quel background in campo io penso che possa dare una grossa mano in termini di fiducia proprio al settore lunghi poi è chiaro dall'altra parte il tavare se può rie lì diventa difficile per chiunque l'impresa non è impossibile però è proprio un'impresa sì decisamente allora forse meno impresa comunque sarà durissima però magari ci arriva con un po' più di spessore alla sfida contro il Barca Milano che arriva da un buon momento di forma in trasferta è super in forma però arriva soprattutto anche da due vittorie consecutive contro il Barcellona proprio l'anno scorso che aveva vinto entrambe le partite che Milano ti aspetti a casa del Barca in virtù anche ne abbiamo anche parlato un pochino prima in virtù anche dell'assenza di Shields quindi che tipo di squadra ti aspetti che tipo di atteggiamento sappiamo che partirà male e va bene e questo lo mettiamo da conto però come finirà Milano deve partire nell'assenza di Shields nell'assenza della sua prima punta offensiva deve chiaramente partire dalle sue certezze che è il lato difensivo è da lì che l'Olimpia ha sempre costruito le sue vittorie quindi dovrà un po' alzare il muro servirà il Melli extra lusso per arginare tutti i cambi difensivi attenzione anche alla partita di di Kyle Hines che con il giusto minutaggio penso che dovrà essere uno dei leader di questa serata è chiaro che poi offensivamente devi essere bravo ad aprire il campo devi trovare i giusti stimoli offensivi occhio alle partite degli ex che se ne sono un po' dopo tanto tempo perché c'è Pangos che non ha vissuto un bel periodo a Barcellona quindi magari vorrà un po' riscattarsi c'è Brandon Davis che ha lasciato Barcellona nella scorsa stagione quindi anche lui è la prima da ex su un campo dove ha vinto tanto saranno un po' i fattori chiave è chiaro che senza Shields ti mancherà un brio offensivo che comunque già non era di alto livello quindi difesa sicuramente bisognerà correre bene la transizione offensiva e limitare quella offensiva del Barcellona mi preoccupa la marcatura su Satoransky perché fisicamente sono in pochi a poterlo tenere sicuramente non può tenerlo Pangos dovrà fare un lavoro stratosferico Devon Hall potrebbe essere la partita difensiva di Stefano Tonut che finora si è calato in questo ruolo esatto finora in questo ruolo di stopper difensivo si è calato alla grandissima in Europa ha deciso di partire da lì e secondo me è la lettura giusta questa è una chiamata piuttosto importante perché nell'assenza di Shields chiaramente tutti quei giocatori nel ruolo di due fisicati Tonut Hall soprattutto dovranno dare una mano in più soprattutto se De Sean Thomas continuerà a deludere e anche questo è un altro punto chiave Milano non può continuare a permettersi De Sean Thomas fuori dalle partite e soprattutto senza Shields Sacro Sacrosanto allora io chiuderei con un quadro sulle altre partite ma in particolar modo sul derby di Istanbul perché con l'Efes che ospita il Fenerbahce c'è spazio per potenzialmente per l'Olimpiakos di guadagnare la vetta solitaria della classifica sebbene ospiti quel fastidiosissimo Monaco partirei da queste due squadre e poi cercare di capire eventualmente quale può essere la classifica al termine della quinta giornata sono due big match probabilmente tolto Barcellona Milano i due partiti più importanti del turno il derby di Istanbul non è mai una partita qualsiasi né per l'Efes né per il Fener entrambi hanno dei problemi l'Efes continua ad avere il problema Shane Larkin e sta trovando un po' la quadra offensiva che latita al momento perché Polonara Mbaillet e Zizic devono ancora entrare a pieno ritmo nella loro nuova squadra Polonara sta avendo un po' di difficoltà sembra che Ataman gli stia preferendo Mbaillet Mbaillet tanto giocava già nel campionato turco questo sicuramente da parecchi anni questo sicuramente ha un aiuto anche se il Polonara era il Fener l'anno scorso magari c'è la classica partita dell'ex per Polonara glielo auguriamo il Fener lo ci sembra aver trovato un importante ritmo offensivo Carson Edwards ha fatto la sua prima partita di livello lui è uno che ha un talento offensivo talmente straripante che potrebbe davvero vincere facilmente la classifica cannonieri però è una squadra che finora si è retta abbastanza sulle giocate di Calates che non mi aspettavo io lo davo abbastanza per finito e invece è ancora lì che la spiega quindi partita che ci assegniamo da guardare tanto se non mi sbaglio per chi guarda in televisione va proprio prima della partita di Barcellona quindi si incastra abbastanza bene Olimpiakos Monaco è la rivincita del pre-off dell'anno scorso dove c'era Kevin Durante sugli spalti impressionato dai fumogeni del Pireo e qua secondo me Mike James avrà una voglia di vendetta tanto lui expana anche non da poco questa sarà una sfida piuttosto grossa perché il Monaco ha anche le carte fisiche per limitare a Vezenkov penso a John Brown penso soprattutto a John Brown poi in realtà ci sono anche il resto della squadra piuttosto forte fisicamente forse qua il Monaco può fare di nuovo il colpo anche se vincere al Pireo oddio se vincono anche al Pireo cominciamo a considerarli molto più che una pretendente di playoff allora questo è stato un po' più come trattenuto l'altra volta ero più sicuro l'altra volta qua sono meno sicuro perché l'Elimpia Costa per me è fortissimo va bene allora diciamo che finisce con un pareggio esatto va bene allora io direi che va bene così che possiamo chiudere questa questa puntata in cui abbiamo commentato la quarta giornata e introdotto da la quinta di Eurolega non ci resta che goderci questa giornata di Eurolega e aggiornarci settimana prossima con quello che ne verrà Dario grazie mille grazie a voi grazie a tutti un saluto alla prossima e alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti